Sulla sospensione dei lavori del secondo tratto dell'8-0 l'ANAS ha deciso, ricorrerà al Consiglio di Stato. E quanto si apprende dal sindaco di Teramo Maurizio Brucchi raggiunte al telefono a Bruxelles? Secondo quanto si è appreso dal primo cittadino, infatti l'ANAS riterrebbe questa strada come la più sicura e veloce per il risultato da ottenere, rispetto all'ipotesi di rimodulazione del bando e di riaffidamento della gara come si era ventilato in un primo momento. Il Consiglio di Stato può infatti pronunciarsi entro 30 giorni e quindi tra fine dicembre e inizi di gennaio, a cavallo delle feste, potrebbe sbloccarsi il liter dei lavori. Con buona pace dello stesso primo cittadino, che non vedrebbe slittato di molto il cronoprogramma dell'opera, che potrebbe ancora vedere la luce entro il 2012. I lavori per il secondo tratto dell'8-0 sarebbero dovuti iniziare proprio in questi giorni, se non fosse arrivata come un fulmino al Cessereno, la sospensiva del TAR, dopo il ricorso presentato dall'ATI, Associazione Temporanea di Imprese, Porcinari, Masci Giovani e Figli Immacinati, Gianforte Remo, contro l'ANAS e la Mara Appalti di Penne, la ditta a cui erano stati affidati i lavori.